bellissima ragazzi e bellissima ragazzi oggi è una seconda del titolo inter da scudenti ragazzi raga finalmente ragazzi linda ragazzi dopo 9 anni che la juventus vinceva il camionato finalmente perché io devo arrivare finalmente la juve è collata ma finalmente finalmente perché io voglio dire nello del dipendente vinto vuole prendere il risultato e voglio dire finalmente allo stanno cioè 19 ma non più 18 finalmente stiamo al secondo posto da scuola scuola di scuola quindi ancora un comune di nama io mi sembra che non c'è però la prossima andiamo andiamo a gestarla qua stanno e scuola che la vingiamo quindi scuola che la vingiamo quindi scuola che sicuro che la vingiamo quindi ragazzi contro domani ragazzi do voi domani devo vedere là il pronostico di unico di crocione intera vendita e e poi ragazzi però qui la re sono una carta il lunedì no domenica la domenica non c'è bene grazie bella bella ragazza ciao